Sì, vabbè, ehm Social Ora, ora abbiamo fatti sto bel dialogo Come che... ok Come... adesso ci siamo fatti sto bel dialogo, no? Dico, per dire Ma come... Comerci... Comerci, cavolo, dovrei salirci su Ok Ok, sono tornato qui Bene, sono tornato qui No? Allora, qua è l'uscita Allora, ricapito, questa è l'uscita, no? Uscita la caverna E... Che sarebbe anche l'entrata E quindi entriamo, no? Dice che è lassù No? Ora Se effe... come... cioè Dove essere lassù Bisognerebbe salire, no? Eh... saliamo 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 E saliamo Saliamo Non è che dice ci sono bivi Cose... non è una direzione Una è la direzione Non è che dice... Qua si cade, si finisce giù E ora... E ora... Andiamo E qua... No... E là è dove si... faccia... cioè... Andando di qua... Andando di qua... Di qua... Ok... Allora... Allora... Anche... Anche.. E questo... Anche... Adesso... Unione... 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 E' attimo. E' attimo. E' attimo. Siamo tornati a Rereka Aaaaaah spezzamato minchia siamo tornati a Rereka allora ok tutto questo io allora canna liscia sto prendendo tutte cose ora qua qua e qua ma non avevo una 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 luce non avevo una luce tipo non avevo una luce tipo non avevo una luce tipo ok ci siamo siamo di nuovo qua allora con la qui va va no allora 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 io ho avuto e ok ho avuto di qua no no ah ma 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 per il jetpack dov'è un attimo mi hai fatto prendere un colpo Sam allora no che non ci sto capendo niente ci sto capendo niente vado di qua torno di qua punto e cavo non ci sto capendo non ci sto capendo niente ma tipo nulla a zero proprio allora ultimo tentativo dopo di che esco perché mi viene a pensare che abbiamo sbagliato ad entrare qui allora eeeh che in realtà il posto dove dobbiamo andare non è dentro la caverna ma sopra la caverna ora vado di qua salgo ecco che sono qui poi vado di qua e poi e poi e poi purrone che cosa ah 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 secondo microinfarto mi fai prendere un e un un per un attimo me l'ha dato per un singolo attimo me l'ha dato è stato un attimo ok io qua divento scemo qua divento scemo la mia sensazione sono due cose o se è buggato quel cursore o se è buggata la missione posso rappresentare il punto dove devi andare è completamente formicante un L2 non è che dici allora ok stai allenando per una gara di sopportazione di rompicoglioni ecco ah non l'ho detto questa parte ah non l'ho detto Ah, c'è l'amma. Che cosa è? Comunque c'è Che ho trovato ma Posso dire che la strada Era rappresentata malissimo Nel senso che questa lonna Questo buco così mai Non avrei mai visto in vita mia Ho messo Non so quanto tempo Solo per andare lì Allora comunque Abbiamo fatto Possiamo andare Io non ho neanche Sparato un colpo Meglio così Sono solo appesantito Utteriamente con altre robe A trasportare Però io a questo punto Adesso queste cose me le piazzo Me le piazzo Oh path finding Me Finalmente Peramente Mi serve Aumentare il Mi serve aumentare il Il carico trasportabile Porca miseria C'è C'è troppo poco Veramente Veramente Limitando A A ciò che è Utile E o di valore Ma Tanto Pronto Occupata Adesso Usciamo Da Nitra Oh Onestamente Ho visto Fra Sedia Onestamente Farò una cosa E l'altra Con tutti Medica E cose Che c'erano Pensato Ho capito Qua ci sarà Da combattere E anche tanto Invece no Entrato Proprio Tanto Serenamente Tranquillamente Entrato Preso la roba Me ne sto andando Ok Ora Intanto Prendo Poglio Da Carabrina Oh Gastossico Ferma Ok Va bene Adesso Siamo Dando Qualsiasi Problema Allora Oh Quello E anche Di livello 15 Ma la nave Tipo Molto Ma molto Serenamente Alla nave Ce ne andiamo Pare Ma proprio Tanto Serenamente Alla nave Ok Allora Dovremmo andare A trovare Andreina Andreina Tota Su Niron Così si Salve Salve Salute a Lei Gnapse Alfa Allora Direi abitacolo Anche se Anche se Sarei un attimo C'è Allora Dove sono le cose? Ok Cargo Oh vedi Granata a frammentazione Direttore Bende Allora Allora Vediamo un po' Che abbiamo Armi Novalite Urban Eagle Va bene Ora Io direi Inventario LB Cosa c'ho io? Le armi Sono Tutte uniche E ok Ho due Tutta Allora Ablativo Tutta Tutta spaziale Squadra di terra Valore Valore 3.187 Ablativo Meno In danni La energia Ricevuti Ricevuti Cos'è Depositare Questo Questiario Cosa Casco Gravi Plus Marrone Valore 94 Abiti Cibernetici Proprio Io direi Io direi In tutta Serena Onestà Queste cose Le depositiamo Caschie Vabbè 2 2 Questo Le depositiamo Qua Allora Monte Varie Queste varie Cosa abbiamo Arme Hanno fatto Z Mappe Di Solomon Pendolo Decorativo Era Stravagante Term E Digi Pig Risorse C'ho Mondo Ma Se Queste cose Le deposito Per dire Deposita Tutto Questo Aroma Io deposito Tutte Ste Cose Che Comportamela Presto Mi serve Batteria Depositroni Che me ne Ne può Fa Beriglio Deposita Tutto Cavo Gravità Zero Ma Deposita Tutto Circuito Eletrico E Matita Acquosa Qua Ste Cose Qui Deposita Qua Embrana Tutte Ste Risorse Seme Deposita Tutto Nutriente Tessuto Rame Tessuto Tropico Del Questo 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 Tantaglio Tessuto Quark Degenerati Che cacchio Ma Perché Tutto Cos'è il tutto Vari abbiamo Dibli Manufattuzione Aperito Un pendolo De Va bene Va bene Oh Grammata A fermentazione Va bene Ok Forse posso Camminare Normale Che bello Posso camminare Normale Posso camminare Normale Che bello Ok Ci sediamo Onestamente Tutte Forse Che a me Faccio niente Allora Prima di decollare Vedere Fare e dire Fammi vedere Come siamo messi Qui E vabbè Ho capito Mi sa che qua Ne facciamo Per più Per più Puntate Va bene Va bene E allora Decolla Ok Di nuovo Sempre La parte La parte La spima Era meglio Tra un lato In vivo Va bene Ok 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 Good one Cor Hey Next time You see Barron Trappato Narion Narion Allora Stiamo Su Narion Non scansion Addirittura Non scansionabile Miniera Abbandonata Trova Andrea E Postiamo La not La rotta Per mira Dai Vai Salta Vai Quante volte Devo dirlo Dai Andiamo Andiamo a trovare Andrea Comunque a noi Ci serve La nave Di un certo Tipo Eh Ci serve La nave Di un certo Tipo Ci serve Di un certo Tipo Di una Certa potenza Perché Questa che abbiamo Adesso Quella base Non ci siamo Allora Nitra Apri M'acqua Allora Questo sarà Punto D'atterraggio No Atterriamo Dai D'atterraggio 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 D'atterraggio